Benvenuti alla ripresa di questa trasmissione che possiamo dire è storica in quanto ha vissuto dei bei periodi pre-Covid. Adesso che siamo in discesa, che la pandemia sta esaurendosi, sta andando verso un'endemia, una situazione tipo influenza, a meno che non sia qualche colpo di coda, riprendiamo le trasmissioni, come abbiamo ripreso tre minuti per la tua salute, adesso riprendiamo dalla parte del cittadino. Dalla parte del cittadino, se voi vi ricordate, avevamo sempre ospiti, gli avvocati dello studio Pavanetto e anche oggi abbiamo qui un ospite dello studio Pavanetto che conosciamo bene, l'avvocato Federico Trevisiol, mi autoproclamo. Alla fine della pandemia però ci sono dei problemi e abbiamo avuto diverse assinrazioni di questo problema che portiamo alla loro attenzione, perché effettivamente quando mi scrivono, specialmente sul ponte pongono la domanda, io non ho le capacità, sono un medico. Tanti negozi in tante zone di questa città, io so che la zona mia via Carruzzani è piena, è un disastro di gente, attività chiuse, affittarsi, cedersi, ma tante veramente, e si rimane molto male. Il problema è questo, che nel periodo del lockdown, praticamente loro sono stati chiusi e diciamo che i bonus che ha dato lo Stato è una sciocchezza, però indipendentemente dal lockdown, anche all'apertura, è stata un'entrata limitata, un po' per le normative, un po' per le spese per far rispettare le normative e un po' perché la gente va meno nei locali, a parte i soliti diciamo i discipiati, però io stesso come medico dovrei andare a fare delle visite, ho sempre paura e si alza questo fatto qua. Bene, loro adesso che si dovrebbe riprendere con l'attività, mi scrivono, dicono come facciamo se non abbiamo guadagnato, non abbiamo i soldi, come facciamo a riprendere, a pagare? Perché il locatore, quello che ha il possessore del negozio vuole gli arretrati e vuole l'affitto attuale. Che soluzione può esserci? Allora, innanzitutto la ringrazio dottore per l'invito, mi fa molto piacere, a distanza di un po' di anni ormai abbiamo fatto quasi un déjà vu oggi. Allora, innanzitutto per rispondere alla sua domanda inquadriamo di cosa parliamo, sono locazioni commerciali, cioè sono tutte quelle locazioni ad uso diverso e abitativo, quindi non parliamo di un'abitazione, di una casa, parliamo di tutti quei locali che vengono dati in locazione o volgarmente in affitto per svolgere un'attività commerciale. Pensiamo ad esempio a un bar o un ristorante. Durante il lockdown, non dico neanche lockdown cosa intendo perché è noto a tutti purtroppo, molti conduttori, considerate le notevole difficoltà, pensiamo alle chiusure, alle limitazioni, a tutte quelle restrizioni, non sono riusciti a pagare i canoni. Il locatore, soprattutto anche oggi, ma anche nei mesi scorsi, diciamo con la ripresa, se per un periodo aveva sopportato questo mancato pagamento dei canoni maturati durante il lockdown, oggi diciamo batte cassa, letteralmente, e va a chiedere a tutti quanti quei pagamenti di quelle mensilità insolute che sono andate ad accumularsi durante il lockdown. Spesso si rivolge anche al tribunale, andando al tribunale chiedendo anche procedure di sfratto per chiedere appunto questi soldini. Domandiamoci appunto, come detto lei, che tutele ha il conduttore? Ricordiamo che la pandemia è iniziata, tutte le problematiche, a partire da febbraio 2020. Con la diffusione della pandemia da Covid si sono susseguiti tutti quei provvedimenti, i famosi acerimi di PCM che hanno portato a forti limitazioni delle attività commerciali. Per quanto riguarda i bar e i ristoranti, pensiamo ad esempio a quei periodi in cui non hanno potuto aprire, quindi chiusura totale, o quei periodi in cui hanno potuto aprire ma con forti limitazioni. Pensiamo ad esempio alle distanze di sicurezza, alla possibilità di consumare solo all'esterno e mantenere distanze di sicurezza solo con posti a sedere, addirittura divieto di sostare nelle vicinanze dei locali, oppure anche la possibilità di esercitare solo in determinate fasce orarie. Tutto questo inevitabilmente ha portato a una compromissione del fatturato, delle entrate per questi pubblici esercizi. I conduttori, a noi ci è capito molto spesso, in questa fase, soprattutto quando si è riaperto un po' di luce, hanno cercato una trattativa o intavolare un tavolo con i locatori per andare a cercare di trovare una soluzione per questi canoni non pagati. Spesso abbiamo visto anche noi che i locatori si sono limitati a non accettare o addirittura hanno rispedito al mittente ogni tentativo di cercare una soluzione condivisa. I conduttori, bisogna dire, hanno uno strumento molto importante in questi casi, soprattutto di fronte al totale dinievo da parte del locatore. L'insegnamento ci arriva dalla Corte di Cassazione, direttamente, che attraverso il proprio ufficio del massimario del ruolo, attraverso un'importante relazione, ha esaminato le conseguenze dello shock economico derivato dalla pandemia e dal lockdown sui rapporti contrattuali, andando a imprimere nel proprio ragionamento, sul criterio della buona fede durante l'esecuzione del contratto, con un conseguente obbligo da parte del locatore di rinegoziare per adattare il contratto alle intervenute circostanze sopravenute. Pensiamo ad esempio alle prestazioni temporaneamente impossibili o alle prestazioni eccessiamento onerose. E tutto questo per andare a preservare il rapporto economico che è sotteso al contratto di locazione. Per capire meglio voglio citare un passaggio importante di questa relazione, che secondo me è fondamentale per capire anche l'approccio ermeneutico della Cassazione. Lo leggo testualmente su poche parole. La rinegoziazione a fronte di sopravenienze che alterano il rapporto di scambio diventa un passaggio obbligato, che serve a conservare il piano dei costi e ricavi originariamente patuito, con la conseguenza che chi si sottrae ha l'obbligo di ripristinarlo, pensiamo al locatore che non vuole rinegoziare o non si presta a una trattativa, commette una grave violazione del regolamento contrattuale. In particolare, prosegue la Cassazione, cosa significa rinegoziare? Vuol dire impegnarsi a porre in essere tutti quegli atti che, in relazione alle circostanze, pensiamo ad esempio alle chiusure, alle limitazioni, possono concretamente consentire alle parti di accordarsi sulle condizioni dell'adeguamento del contratto, alla luce delle modificazioni intervenute. Verosimilmente il soggetto che andrà a chiedere, mi abbassi il canone per quei mesi, sarà il conduttore, il soggetto che è svantaggiato dal punto di vista economico. L'altro contenente, il locatore, dovrà condurre la rinegoziazione, possiamo anche dire prestarsi alle rinegoziazioni in modo costruttivo. Quindi il locatore in questo caso sarà adempiente se promuove una trattativa, lui stesso, molto difficile, o se raccoglie positivamente l'invito che gli ha rivolto al conduttore per andare a sedersi al tavolo e a discutere i termini economici di quei mesi soggetti al lockdown. Sarà quindi inadempiente il locatore se o non si presta a una trattativa, oppure anche se si siede al tavolo con trattative di mera facciata, cioè con proposte irricevibile, le chiamiamo noi. In questi casi il conduttore ha un importante strumento, perché il locatore potrebbe anche essere destinatario di una sentenza, si dice, per esecuzione in forma specifica. È una sorta di istituto che è regolato da un articolo del Codice Civile, l'articolo 2932, che consente di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto e non conclusa per inadempimento al principio della buona fede contrattuale da parte del locatore. Questa relazione, se può essere di interesse, è la numero 56 dell'8 luglio 2020. Si può trovare anche in tutti quanti i siti specialistici o comunque digitando anche in internet. Questi principi, che sono molto importanti, hanno trovato sfogo nelle sentenze dei Tribunali di Merito. Cito ad esempio un Tribunale di Milano che in un'ordinanza del 21 ottobre 2020, quindi parliamo comunque di materiale recente, non materiale ricente nel tempo, ha stabilito, se non mi sbaglio, in quel caso si occupava di una fattispecie relativa a un'attività di ristorazione, ha stabilito che per effetto del lockdown ai conduttori di immobili adibiti ad uso commerciale, è stata inibita l'utilizzazione del bene per lo svolgimento di attività in forza di ordine dell'autorità, ricordiamoci il DPCM, per cui in questi casi una rinegoziazione dell'importo del canone, nel senso di una sua temporanea riduzione, quindi una riduzione contemperata per quanto riguarda i periodi soggetti all'AUN e quindi alle misure, chiusure o restrizioni, andrebbe a riequilibrare il rapporto di scambio sotteso al contratto. Ancora faccio riferimento al Tribunale di Firenze che noi abbiamo utilizzato anche come precedente in un'altra sentenza recente o meglio un'ordinanza ottenuta presso il Tribunale di Venezia dove il Tribunale di Firenze ha di fronte a un procedimento di sfratto dove il locatore va chiesto di pronunciare un'ordinanza provvisoria di rilascio, ha rigettato la richiesta, ha disposto il mutamento del rito, si trasforma in un giudizio ordinario e ha disposto che le parti attivassero la procedura di mediazione obbligatoria. Mediazione che sappiamo cos'è, sono quegli strumenti per cercare di risolvere le controversie in forma stragiudiziale con un accordo conciliativo, reputando quella sede il luogo adatto di fronte anche a un conciliatore per cercare di trovare una soluzione a questa trattativa che il locatore aveva impedito con le sue trattative di mera facciato, comunque con la sua volontà di non sedersi a un tavolo. Quindi questo è uno strumento che ritengo molto importante perché tutti quei soggetti che si ritrovano ora fortunatamente con la ripresa dell'attività magari a dover fare i conti con delle morosità pregresse riferite al periodo Covid di fronte a richieste pretestuose che non contemperano questi strumenti che ho appena detto e disattendono il principio di buona fede, hanno degli strumenti per alzare la voce o comunque per tutelarsi. Bene, complimenti perché devo dire, io che sono ignorante e non sapevo come rispondere, ho capito. Questa è la cosa più importante che il messaggio sia arrivato. Mi verrebbe da dire, ne parleremo un'altra volta, che forse si ricollega a questo, sulle attività chiuse perché non riprendono più perché non ce la fanno, ecco, si lamentano che viene chiesto a uno che vorrebbe entrare una cifra molto alta, troppo alta per cui uno ha difficoltà a dire sì entro, apro. In effetti ci sono alcune attività che stanno riprendendo, ma non pareggiano quelle che hanno chiuso e stanno chiudendo. E anche lì forse dovrebbe vedere che i locatori ad uno nuovo che vuole entrare diano un prezzo credo camminato. Sì, tante volte noi vediamo anche nella pratica che ci sono anche dei locatori, diciamo, mi perdono i termini, illuminati, che sapendo che comunque siamo ancora in una fase di ripresa magari vanno a fissare dei canoni, qua stiamo parlando di una fattispecie diversa perché parliamo di un canone nuovo o meglio di un contratto ancora da firmare, magari sono talmente luggimiranti da capire di consentire al nuovo soggetto un canone a salire in modo tale da consentire a un soggetto di entrare un po' nel mercato, farsi digerire, conoscere dal mercato, in modo tale da avere anche poi un risultato maggiore. Questo è una cosa che può spiegare perché rimangono tante attività chiuse. Io ne vedo tante, troppe, almeno nella zona nostra proprio, è un deserto a volte a passare. Ci rivedremo, ecco, la settimana prossima avremo un altro avvocato sempre del studio Pavaneto e vedremo anche un altro argomento. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie.